Salve a tutti, siamo alla lezione numero 11 del manuale, da settima di dominante nel modo minore. Se dovessimo suonare gli accordi quinto primo con la settima di dominante in una tonalità minore, ci accorgeremmo che l'effetto non sarebbe efficace come nel modo maggiore. Questo è poco efficace. Nel modo maggiore è efficace, perché c'è un semitono fra sensibile e tonica. Mentre qui invece c'è un tono, Sol La. Questo dipende dal fatto che fra il settimo e il primo grado della scala minore c'è un tono, in effetti. Mentre fra gli stessi gradi della scala maggiore c'è un semitono. E' proprio questo semitono che origina la forte attrazione della sensibile alla tonica. Cioè settimo grado, primo grado. Questa sensibile deve salire alla tonica. Si è creata quindi la scala minore armonica, inserendo un'alterazione e ottenendo così un semitono fra settimo e primo grado. L'esempio è questo. In La minore. Questo sol diesis fa sì che ci sia un semitono fra settimo e ottavo grado. L'alterazione del settimo grado non è mai scritta in chiave, ma viene inserita nelle misure ogni volta che serve. Ora, se ricostruiremo il primo accordo dell'esempio suonato all'inizio e aggiungendo il sol diesis, noteremo che l'effetto sarà efficace. L'esempio era questo. Con il sol naturale. Inseriamo il sol diesis. Ed è efficace perché qui c'è un semitono. La deduzione è la seguente. La settima di dominante nel modo minore deve avere fra le sue notte le stesse distanze in toni e semitoni della settima di dominante nel modo maggiore. Vediamo. Questa è la settima di dominante di Do maggiore. Cioè, fra Sol e Si c'è una terza maggiore. Poi due terze minori sovrapposte. Nel quinto grado della scala minore abbiamo Mi Sol diesis, che fa una terza maggiore, e due terze minori sovrapposte. Questo fa sì che ci sia quella trazione dovuta alla sensibile che sale alla tonica. Esercizio numero 32. Trasformiamo gli accordi scritti in accordi di settima di dominante. È scritto così. Re, Fa, La, Do. Bene. Se noi alziamo la terza, Da minore, A maggiore, abbiamo una settima di dominante. Questo secondo accordo, Mi Sol Si Re. Alziamo la terza e abbiamo una settima di dominante. Poi abbiamo La, Do, Mi, Sol. Il Do va alzato di un semitono e abbiamo una settima di dominante. Poi abbiamo Do, Mi, Sol, Si. Ci manca qualcosa. Questo, il Si bemolle. Do, Mi, Sol, Si. Perché? Fra la quinta e la settima ci deve essere una terza minore. Poi abbiamo Fa, La, Do, Mi. Anche questa non è una settima di dominante. Dobbiamo mettere Mi bemolle. Poi abbiamo Si, Re, Fa, La. E qui il discorso è più complesso. Perché potrei fare così. Si, Re, Diesis, Fa, Diesis, La. Oppure così. Si bemolle, Re, Fa, La bemolle. Questo è tutto. Grazie per avermi seguito.